Benvenuti al saluto del lunedì dal vostro Angelo Camilleriadis, mister affittibianza. Nell'occasione di una riunione operativa con lo staff commerciale stiamo lavorando insieme per creare dei servizi e dei pacchetti esclusivi da proporvi nelle prossime settimane. Troverete un mio post ogni martedì con la spiegazione di ogni singolo pacchetto, ma oggi cogliamo l'occasione per presentarvi i pacchetti principali direttamente da tutto lo staff commerciale delle agenzie di solo affitti di Desio e solo affitti di Indiate. Il nostro commerciale Anna Paro di Desio ci presenta il pacchetto base. Vai Anna. Ancora. Il pacchetto base comprende redazione, stipule del contratto più registrazione. Marco Adis, il commerciale di Indiate, presenta il pacchetto concordato. Ciao. Il pacchetto concordato comprende il calcolo del calcolo del concordato con la prevalutazione delle associazioni di categoria più la redazione e la stipula del contratto e la minimazione delle stesse associazioni di categoria. Il mio posto Giuseppe Di Napoli, manager dell'assizio, ci presenta il pacchetto tutela vigale. Oltre al contratto di locazione e alla registrazione, comprende il rimborso delle spese legali per sfratto per volosità. Questi e tutti gli altri pacchetti che abbiamo creato per voi potrete ritrovarli direttamente nella pubblicazione del martedì insieme a tutte le descrizioni. Vi ricordo che in questi giorni siamo in zona arancione rafforzata, ma questo non ci impedisce di proseguire nel nostro lavoro sempre stando a quello che sono le normative vigenti, quindi tranquillizziamo tutti quanti. Se avete necessità di affittare la vostra casa o il vostro immobile più in generale, oppure avete necessità di cercare un immobile per le vostre esigenze, potete tranquillamente contattare tutti i manager del nostro staff e interfacciarvi con noi direttamente. Io per il momento vi ringrazio e vi auguro una settimana botanica.